L'onomastico di Giordano Il 5 settembre del 1980 viene aperta in Svizzera la Galleria Stradale del San Gottardo, il più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16 chilometri e 918 metri. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 5 settembre ricordiamo il cantante inglese Freddie Mercury, l'attrice americana Raquel Welch. La citazione del giorno Gli affetti familiari trattengono i mediocri e incitano i prodi. Ugo Oietti Dice il saggio Se le tue parole non sono meglio del silenzio, dovresti restare zitto. Il bel paese In Calabria, un chilometro a nord di Pizzo, in località La Madonnella, c'è un luogo di culto interamente scavato nelle rocce tuffacee. È la Chiesetta di Piedigrotta. Al suo interno la chiesetta è arredata con diverse statue, sempre in tuffo. Essendo contigua alla spiaggia, esposta a Ponente, nel pomeriggio i raggi del sole penetrano nelle profondità, mettendo in risalto le colorazioni dei sali minerali che ricoprono le pareti. È uno spettacolo veramente suggestivo. È uno spettacolo i capelli digitali che ricoprono le pareti.